Ammazzatemi di dire una cosa a Mario Draghi Scusate ma era da tempo che avrei voluto farlo Gli italiani la situazione è calda e anche molto delicata Per questo che abbiamo bisogno di rinforzi Rocco, Rocco vieni qua Rocco Rocco Casalino stava in feria a Santo Domingo e l'ho richiamato per tornare qua a Roma Ah e con me sono ritornati anche tutti i membri del Comitato Scientific E Mario Draghi